E ciao a tutti ragazzi, quest'oggi mini guida per un argomento che in tanti mi chiedete, quindi l'ho detto in svariate puntate, però forse è doveroso anche dedicarvi un piccolo video a questo punto. Come togliere gli ad dalla partita? Anche a voi dan fastidio veder la mappa, veder l'f1, veder le scritte della season, i soldi, tutto ciò? Bene, con una semplice mossa, di solito è un tasto o una combinazione di tasti con o senza mod, potete avere un schermo pulito così come il mio in questo caso. Quindi vediamo come fare tutto ciò. Molto spesso se volete togliergli ad appunto è perché volete fare una screenshot, giusto? ok, consiglio mio anche, conta ovviamente l'ora in cui la fate, quindi sistemate l'ora del gioco e vabbè con la player action camera potete zoomare e abbassare e alzare il player, ma questo va oltre il discorso di oggi. Voi volete togliere gli ad? Come fate? Ci sono diversi percorsi, inizio da quelli diciamo che prevedono una mod e quindi potreste avere una mod da mod hub ufficiale che di norma è un add hider, chiamato così, che con una combinazione di tasti spesso e volentieri è alt 1, vi toglie tutti gli add. Quindi questo è il primo metodo. Il secondo metodo può essere adottarsi di Easy Development Commands, un'altra mod che è praticamente sempre su mod hub, utilissima, comodissima, la famosa mod che vi dico del tasto F11. Vedete qua? Flight barra no add mod. Questa di default è no, voi mettete sì e in partita col tasto O cosa succede? Ogni volta che premo O sparisce tutto. Questa, fra l'altro, vi fa anche la possibilità di volare. Quindi questo io lo faccio con la player action camera, però in realtà sta volando solo la telecamera e poi ci sono le collision se muovo l'omino. Mentre se voi schiacciate J e poi Q, vi alzate e in pratica state alzando realmente tutto il player, quindi se io avanzo non ho collision, non devo saltare e praticamente mi ritrovo veramente in aria. Cioè se uno è qua in partita con voi, vi vede in aria. Cosa diversa, ripeto, da essere in aria con questa, che l'omino resta sempre a terra, ma non dilunghiamoci troppo, poi vabbè per tornare a terra una volta che siete stati col Q, rischiacciate il tasto J. E questo è il secondo metodo comodo anche per tutti questi aiuti ulteriori, la Easy Development Commands. Ma invece se per caso vi ritrovaste nella cosiddetta e siete entrati in una partita e non avete caricato o comunque spuntato o scaricato le mod, non le avete per qualsiasi motivo, siete entrati in un multiplayer e volete fare una screenshot, ragazzi anche lì non ci sono scuse perché voi dovete attivare la modalità sviluppatore che quella funziona sempre e una volta avviata non dà nessun problema. Si attiva la chat della modalità sviluppatore col tasto slash, quello di fianco al 1, due volte per arrivare fino alla riga dove potete scrivere, scrivete GSTOGG, poi schiacciate tab per farvi aiutare, tabbate finché non trovate GSTOGG, tasto invio, vedete che vi ha dato il valore true, tirate via tutta la schermata e qua col vostro tasto O tirate via tutto e con i vostri tasti Q e J potete volare. Quindi è la stessa cosa, stesso identico comando che qua fate praticamente con la mod. quindi ragazzi non ci sono più scuse, anche se siete in partita senza nessuna mod che vi toglie gli ad, voi avete il comando da console. Questo è valido anche ve lo ricordo se dovete postare delle screenshot in giro, fra l'altro anche nello screenshot contest sul mio server discord. Quindi cari ragazzi spero di essere stato chiaro, spero di essere stato utile. Detto questo vi saluto e vi ringrazio e ovviamente fei bravi e buoni screenshot a voi. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!